Se non si ritira le ministre, lei si va a dimettere? Allora, io mi auguro che non si arrivi a quello, anche perché già in questi giorni io sto lavorando per definire una proposta per un patto di fine legislatura. E io confido che tutti ci possano ritrovare intorno a un tavolo, se c'è volontà, se c'è disponibilità di confrontarsi in modo leale, in modo costruttivo, io sono convinto che tutti si possano ritrovare il senso di una maggiore coesione delle posti in agenza.